Ah si No no Ah ho dimenticato una roba Ho dimenticato una roba Sì Sa cosa mi piacerebbe Daniele? Dice Ma mi vergogno eh Parlavo con i ragazzi della CSF di Perugia e so che sono al terzo piano ma anche se io andassi a fare delle porte non c'è scritto non c'è un marchio che sia uno nelle porte e nei piani non c'è scritto non c'è nulla non c'è una scritta sportiva nulla sono semplici campi quindi neanche della lube no c'è un taxi di garantie si chiede a chi serve adesso sta garantitando io Di nuovo? Buona volta Grazie Alla giù il ristorante Garganelli vedete anzi qua potrei passare a Twitch andiamo a dormire? Sì piacerebbe andare andare ad Ancona sì ho dormito poco quindi posso restare sul volley e tutto questo è magico ho vissuto una serata straordinaria adesso voglio vedere se ho preso anche i caricatori dei telefoni sì perfetto e potrei tornare a Casalecchio di Reno anzi adesso vado a casa potrei Grazie buonanotte come si chiama lei Daniele? Trebbi Trebbi? Potrei qui raccontare invece in video potrei raccontare non tanto il parco che è bellissimo ma se accettasse questo signore il il taxismo di notte a Bologna se ne va? volevo farle una video intervista